imposta luce armadio bianco ecco fatto imposta luce armadio rossa rosso in arrivo imposta la luce armadio al 50% imposta luce armadio verde e che verde sia imposta luce armadio viola e che viola sia imposta luce armadio bianco ecco fatto imposta luce armadio al 10% ok ho impostato l'aromadio su 10% imposta luce armadio gialla mi dispiace imposta luce armadio 10% ok ho impostato l'aromadio su 10% spegni luce armadio